Sarà una salernitana coperta, quella che scenderà in campo domenica pomeriggio al Piola contro il Novara. Menichini ha sciolto quasi tutti i dubbi e l'intenzione è quella di puntare sulla difesa 5. Spazio quindi a Tuia dal primo minuto a formare la linea di centrali con Bernardini e Demperer. A completare il reparto ci saranno Ceccarelli che agirà sulla corsia di destra e Rossi sull'autoposto, preferito ancora una volta a Franco. In mediano il forfè di Auger, appiedato dal giudice sportivo, apre le porte ad una chance importante per il brasiliano Ronaldo, che ha recuperato in pieno dall'operazione al ginocchio e può prendere in mano le chiavi del centrocampo Granata. Accanto a lui ci sarà il rientro di Moro, assente contro il Bari per un problema alla schiena, e la conferma di Bovo, favorito su Zito, che partirà ancora una volta dalla panchina. In attacco si riformerà dal primo minuto la coppia, formata da Coda e Donnarumma, che insieme fino a questo momento hanno messo a segno ben 21 reti, 12 per l'attaccante Metelliano e 9 per l'ex Teramo. In casa Novara invece amichevole con la formazione del Trino, che milita nel campionato di eccellenza. Il risultato finale ha visto i piemontesi imporsi per 10-0, grazie alle reti di Mantovani, Evacuo, Garofalo, De Rosa, Lanzafame, Lukanovic per lui una doppietta e Galabinov una tripletta per l'ex Avellino. Il tecnico Baroni ha provato tre formazioni differenti, facendo ruotare un po' tutti gli uomini a sua disposizione per capire lo stato di forma della squadra e trovare il miglior 11 da opporre domenica pomeriggio alla Salernitana di Merichini.